Per l'anno 2021 si scappotta! Questi sono già ritrovamenti bellini, eh? Che dite? Bello? Vi garba? Guardalo qui! Oggi è stata una cosa improvvisata, però i nostri bei porcelletti si trovano, eh? Si trovano pure belli, sono pure belli, ragazzi! Allora, raccogliamo questo, che è bello tosto, guarda, guarda questo, e poi questo qui, guarda, ce n'è un altro qui, guarda, piccolino, anche lui si prende, eccolo qua, ecco, si è staccata la cappellina, ma belli! Allora, zio, che si fa qua? Questo? Che si fa? Eh, raccoglilo, dai! Faccelo vedere, faccelo vedere, guardalo lì! Grande! Che si fa, zio? Dov'è, dov'è, dov'è? Eccolo lì, guarda, eccolo qui! Non si vede, non si vede, però è grande, guarda qui, guarda lì, guarda che gambo, guarda il gambo dietro com'è! Questa è roba, guarda qui! Si parlava di randelli e si è trovato, va! Gambotto, tac! Zio, zio, allora, guardiamo sta zona, come hai detto tu, ma allora, fammi vedere prima quello che hai trovato tu, Gianluca, dov'è? Io, se non mi chiamavi, sinceramente, non me lo vorrebbe, e ti dico la verità, mi pareva un sasso! Vediamo! Ma vedi? Ammazza, zio! Ma guarda! Mi pareva un sasso! Questo, questo sì, da sopra un pochino sì, questo è il ritrovamento! Ammazza! Si coglie dopo, si coglie dopo! Ma, 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 andiamo a trovare quello lì che è molto più sano, Gianluca! Ammazza! Che è praticamente qui! Vieni, vieni! Anzi, guardiamolo da sopra, guardiamolo da sopra, che è più bello! Vieni, zio! Guardalo lì, guardalo lì, dov'è! Guarda! No! Questo è bello anche! E anzi, si coglie subito proprio! Subito! Ahia! Si coglie subito, maledetti ricci! Guarda! Bello, eh? Bello, bello, bello! Poi si pulisce, andiamo a prendere il tuo, zio! Andiamo a prendere il tuo, vai! Vai, si va a prendere il tuo! Non si guarda in giro per bene! Eh, questa è una zona buona! Eh, davvero! Sì, prendilo, prendilo, è buono! Magari è un pezzo, un pezzo lì! Ah, è grandissimo! No, è bello, è bello, lascia fare! Eh, a voglia te! Grande! Zio, ma l'hai visto? No! Ma l'hai visto o no? Ma noi siamo andati via, guarda, se andavamo via! Ma non l'hai visto? Quello lì! Oh no! Ma era lì, quello lì! No, io non l'avevo visto, non l'avevo visto! Ma no, guarda, questa è roba, eh! No, è duro! Bello, bello! Ma no, ma... Ma è buono! Tutto è buono! Ma era lì e ti ho detto, guardo bene, Gianluca! Guarda, 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 però... Io sì, ce provo a cercarli, ma... Ma io ne trovo invece, Gianluca! Tu ce provi e io le trovo? Sì, è bello! Va, mi sa c'era un altro dietro, ora guardo! Forse! Zio, ti fai il video! Così lo guardi, Gianluca! Esatto! Mentre trovavo questo, Gianluca, c'è anche questo! E ora mi devo guardare bene in giro, perché qui è già il secondo! È possibile, è possibile, Gianluca! Guarda, bellino! Questo è bello! Questo è bello! Di nascita, bello duro! E sodo, guarda qui! E' stato finito! Bello! È bello sì! Guarda lì! Bello sì, è anche sano! Anzi, lascio dentro un pezzettino! Vabbè, ma io lo lascerei! Adesso me lo prendo! Cos'è successo, zio? Non capisco! C'è qualcosa che non torna! Spiegaci! Cioè, io a Porcini li cerco per terra, no? Esatto! E siamo già passati qui! Eh, poi? E poi me lascia su un tronco! No, ragazzi, è da non credere, comunque! Sì, staccano qui, almeno ce li vedono! Cioè, ma guarda che roba, va! Va, va! Ma pure... Conficcato è! No! Sì, è un porcellino pazzesco! No, non è possibile! Spiegati qui da anche il pezzettino! No, io non... Sì, è da non credere! Comunque qua se ne trovate altri anche! Sì, è da non credere! Sì, è da non credere!